Tra Michelle Unziker ed Alessandro Carollo è definitivamente finita. Ecco tutta la verità sulla rottura con l'osteopata romano. Michelle Unziker nelle ultime settimane è finita al centro del gossip per la sua vita privata. Si dice, infatti, che sarebbe tornata single, dopo la storia d'amore con Alessandro Carollo. I due si erano conosciuti più di un anno fa e da un incontro era nato un sentimento forte. Inizialmente avevano cercato di mantenere nascosta la relazione, anche se erano stati paparazzati più volte dai giornali, in atteggiamenti abbastanza intimi e complici. Poco dopo, sono arrivate le prime foto sui social. In particolare è stato l'osteopata romano a condividere uno scatto con la conduttrice, mentre entrambi si trovavano in sella alla sua moto. Negli scatti sorridevano e dai loro sguardi era ben visibile una grossa felicità. Solo che da un po' di tempo circolano delle voci su una possibile rottura. dato che non si mostrano più insieme. Soltanto nelle ultime ore, sulla loro storia, è arrivata la verità. Michelle Hunziker è tornata single? Cosa spunta fuori sulla separazione da Alessandro Carollo? Negli ultimi giorni non si parla d'altro. Secondo le recenti indiscrezioni, tra Michelle Hunziker ed Alessandro Carollo sarebbe finita definitivamente. I due, da molte settimane, non si mostrano più insieme. Non solo i giornali non li hanno più beccati come è sempre successo in precedenza ma anche sui rispettivi social sembra essersi alzato completamente il silenzio. A svelare tutta la verità, sulla probabile rottura, è stato il settimanale chi. Si legge che la conduttrice e l'osteopata non sono più una coppia e che tra i motivi della fine della loro relazione, ci sarebbe la distanza. Infatti, lei vive a Milano e lui a Roma. Quindi la difficoltà di stare più tempo insieme, è sempre stata presente. Inoltre, si dice che Michelle non abbia nessuna intenzione di mettere al secondo posto la sua famiglia e quindi le figlie. Chi, fa sapere che, secondo fonti vicine all'ormai ex coppia, il legame sarebbe finito dopo qualche mese. Non a caso, il settimanale riporta la notizia, accompagnata da alcune immagini della Hunziker mentre si trova in un agriturismo insieme solo alle due figlie, Sole e Celeste e alla sua manager. Inoltre, nella recente intervista, rilasciata proprio al giornale, la conduttrice non ha voluto parlare della sua vita privata, in riferimento soprattutto a Carollo. Gli indizi sembrano chiari. La storia d'amore tra la presentatrice e l'osteopata sembrerebbe essere arrivata alla fine.